Allora signori vedete questo qui è l'altimetro di merda che marca 400 metri e siamo quasi a mille e ora sono troppo incazzato e l'ho finito ora questo qui alla fine può funzionare scusate sono un pochettino nervosito mostralo l'ultima scoperta qui c'è la grottina che abbiamo trovato vedete qua c'è uno strettoio allucinante con magari con 40.000 manzi si potrebbe passare non è che non l'ho mica detto butta un po' la pietra che si senta la pietra l'ho buttata la pietra è più grossa? era butta grossa ma un po' giù va giù bene però ciao!